Benvenuti nella galassia Raptix! Oggi vi presento il SUV Hyundai Tucson X-Line, un compagno ideale per le vostre avventure in famiglia. Immatricolato a marzo 2023, questo Tucson è usato ma in condizioni eccellenti, pronto per nuove esperienze sulla strada. Combina un motore diesel ed elettrico per prestazioni potenti ed efficienti. Con un bellissimo colore grigio scintillante, questo SUV si fa notare ovunque vada. Cambio manuale e trazione anteriore garantiscono controllo e affidabilità su ogni tipo di terreno. Ha percorso solo 10.852 km certificati, quindi è praticamente nuovo. Se volete vivere nuove avventure in famiglia, non perdete l'occasione di visitare rattix.com per maggiori dettagli.